Conferenza stampa di fine anno a Palazzo Ducale dei gruppi consigliari del centro-destra. Manuel Aliveise, Giancarlo Carta di Forza Italia, insieme a Rosanna Arro di Sassari Progetto Comune, mettono in evidenza limite e criticità dell'azione amministrativa della giunta di Nicola Sanna. Promesse non mantenute e obiettivi di mandato mancati, secondo l'opposizione. E poi una lunga lista. Campus universitario, città metropolitana, centro intermodale e nuovo matatoio, ma anche centro storico, Buddi Buddi, Platamona, Ex Cinema Astra. Noi riteniamo che la città stia vivendo un momento assolutamente drammatico, che è assolutamente mal gestito e mal affrontato da questa amministrazione. Esprimiamo tutta la nostra preoccupazione per tutti gli obiettivi mancati, soprattutto per l'incapacità di questa amministrazione di riuscire a risolvere anche le cose più semplici. Da parte della giunta di centro-sinistra manca una vera programmazione. La città vive un momento socialmente molto complicato, è una città che deve ancora trovare soluzioni, che brancola, non abbiamo una vera programmazione che possa risolvere i tanti problemi. Per il momento abbiamo una promessa, se promessa la possiamo chiamare, di un indebitamento importante con dei mutui che il Comune va stipulando. Siamo in attesa di vedere qualche risultato. Una giunta che dopo due anni e mezzo ancora non ha iniziato a governare, ribadisce il centro-destra. È importante sottolineare che i gruppi di opposizione che in questo momento stanno urlando la loro disperazione al governo di Nicola Sanna, da oggi in poi lavoreranno per invece coagulare all'interno di un contenitore politico tutte quelle persone di buona volontà, perbene, oneste, che vogliono aiutare e aiutarci a governare questa città. Questo è il nostro obiettivo.